Radio Radicale, nuovo appuntamento con le nostre interviste filosofiche. Oggi siamo in collegamento con Andrea Salvatore e Mariano Croce, professori di filosofia politica all'Università Sapienza di Roma, e parliamo di un libro che hanno curato su un libro di Carl Schmitt. Nel 1922 Carl Schmitt, giurista tedesco, dà alle stampe un libro che si chiama Teologia Politica, che ha segnato profondamente il pensiero politico e giuridico europeo contemporaneo, e in occasione appunto del centenario corso l'anno scorso, Andrea Salvatore e Mariano Croce hanno curato un volume che raccoglie numerosi interventi relativi a che cosa resta oggi della Teologia Politica di Schmitt. Come dicevo, Andrea Salvatore e Mariano Croce insegnano filosofia politica all'Università Sapienza di Roma, sono collegati con noi per parlare di Teologia Politica Cent'anni Dopo, edito da Quodlibet. Bentrovati! Buon pomeriggio! Allora, cominciamo, una prima domanda a Andrea Salvatore. Cerchiamo di inquadrare il volume di cui appunto, come dicevo, l'anno scorso cadeva il centenario. Carl Schmitt scrive Teologia Politica in una nascente Repubblica di Weimar, e quindi la domanda è, che cosa in quel momento giustifica la scrittura di quel libro? Beh, innanzitutto un dato biografico, no, biografico intellettuale, quando Schmitt scrive quel libro negli stessi mesi, più che anni, aveva, stava seguendo il privatissimum, come si chiamava, cioè un seminario molto ristretto tenuto da Max Weber nel suo penultimo anno di vita, siamo nell'inverno tra il 1918 e il 1919, un privatissimum era un seminario che un docente più anziano, generalmente, riservava ai suoi colleghi di facoltà più giovani, tra questi c'è Carl Schmitt. Perché è rilevante questo incontro? Perché la riflessione di Weber, come del resto le sue ultimissime opere, verteva sul tema della personalità politica, e la domanda che Schmitt di fatto eredita da Weber è da dove nascevano le nuove leadership politiche. La famosa conferenza di Weber, appunto, la politica come professione, indaga questa sorta di extraterritorialità delle nascenti leadership politiche novecentesche rispetto al cursus onorum classico, quantomeno ottocentesco, ma di tutta la modernità. Cioè i leader politici non vengono più dalla, necessariamente, e sempre di meno, da un ambiente politico che ha tutto il suo, la sua formazione classica. Dunque, quando Schmitt scrive Teologia politica e apre con la celeberna frase sovrano e chi decide sullo stato di eccezione, la scienza politica, qui rappresentata da due dei suoi massimi esponenti, Weber e Schmitt, si interroga proprio sulla novità della leadership politica, innanzitutto sulla novità della leadership in generale. Un uomo solo al comando, che fosse o meno così, ma si andava anche in quella direzione dal punto di vista della presentazione del tema. e poi, appunto, interrogare le categorie politiche classiche per scoprirne, con una certa sorpresa, una certa preoccupazione per entrambi gli autori, cioè Weber e Schmitt, che queste teorie, queste categorie, non reggono più. Bisogna pensare categorie nuove, a cominciare da quella del sovrano, della sovranità, che appunto Schmitt significativamente rideclina in senso personalistico. non parla di sovranità, ma parla di sovrano. Questa è l'essenziale, questo è l'essenziale punto di partenza di quest'opera. Mariano Croce, teologia politica, come ha già illuminato Salvatore, è una risposta all'illusione che una Costituzione, un ordinamento giuridico, possa bastare a se stesso, cioè possa fornire a se stesso e da se stesso fondamento, legittimità e significato. Come dire che alla domanda, sempre più radicale, sul perché dovremmo obbedire alla legge, si arriva a un certo punto in cui la legge e il diritto smettono di rispondere e a rispondere deve essere la politica. Che cos'è nella prospettiva schmittiana il decisionismo? che dà sostanza al personalismo di cui ci ha parlato Andrea Salvatore? La chiave forse sta proprio in personalismo. Allora, un passo indietro, dove si colloca la problematica teologia politica del 1922, come mostrano con eleganza e stringenza la serie di autrici e autori che abbiamo convocato e che ringraziamo, qui ne approfittiamo per ringraziare, teologia politica del 1922 è anche una risposta a uno dei giuristi più noti del tempo, cioè a Hans Kelsen, che nutriva una sorta di ambizione, se vogliamo illusione, dipendentemente dai punti di vista, cioè riuscire a dimostrare che il diritto non ha bisogno del concetto di sovranità, quindi un diritto interamente fondato su se stesso, sulla propria forma, un diritto che alla fine riesce ad autogiustificarsi senza ricorrere a concetti che Kelsen al tempo credeva delle superfetazioni inutili, come appunto quella di sovranità. Schmidt ritiene che questa sia un'impresa impossibile, non solo impossibile, ma anche dannosa a suo avviso, perché si perde proprio quella tradizione importante, decisiva del pensiero politico moderno, che fa partire da Hobbes e forse fa incarnare soprattutto Hobbes, che riteneva che una comunità politica vivesse sempre di un'eccedenza, che significa qualcosa che non è racchiudibile nel perimetro del diritto positivo, qualcosa che anima la Costituzione, ma che non è riportabile all'interno dell'area delle Costituzioni, quindi che sta fuori dalla Costituzione. Su Schmidt questo non cambierà mai idea, cambierà idea su che cosa sta fuori dalla Costituzione, però nel 22 la soluzione, che a nostro avviso è un po' estrema e che ad avviso di Andrea Salvatore è mio, ma è solo il nostro avviso, non di molte altre autrici e autori del libro, è che la soluzione tenga poco, però è questa, cioè che il diritto di una comunità politica si fonda sulla decisione di un sovrano, ma di una persona, è un sovrano incarnato, che nei momenti decisivi riesce a raccogliere le energie, le risorse fondamentalmente simbolico-culturali e anche in termini di capacità di imprimire ordini, per determinare che cos'è il diritto. Quindi alla domanda centrale nella riflessione politica e giuridica del Novecento, che cos'è il diritto, Schmidt non risponde indicando un testo scritto o rispondendo la norma. Il diritto è quell'insieme di parole che hanno valore giuridico perché qualcuno, una persona, qualcuno che nei momenti di crisi riesce a fermarsi come sovrano, dice essere diritto. Questo è il decisionismo. Andrea Salvatore, abbiamo accennato al motivo per cui Teologia Politica è stato scritto. Voi nell'introduzione vi rifiutate un po' di dirci perché oggi valga ancora la pena di leggerlo. Io invece ve lo chiedo, lo chiedo a lei. ci dia un'idea del perché oggi debba ancora essere letto Teologia Politica e possa essere ancora uno strumento interpretativo valido? Diciamo, questa forse è la domanda più difficile. La rendo un po' la larga. Innanzitutto perché è un'opera breve. Sono 80 pagine e quindi ce la si capa con Mezzo Comeriggio. perché è un'opera fondamentale della contemporaneità politica non solo del Novecento ma della contemporaneità politica contiene alcuni dei lemmi e dei concetti dunque più richiamati e adesso non dirò travisati ma certamente non sempre più pienamente inquadrati due su tutti quello di decisionismo politiche decisionistiche che è un certo liderismo lo si rimprova da tutti i governi più o meno nazionali e poi il concetto ovviamente di Teologia Politica che Schmitt non si inventa che rilancia e che è un concetto che ha diciamo una sua stratificazione non semplicissima di panare in due parole però diciamo forse avremmo occasione di parlarne anche dopo che la questione è se la politica abbia o meno ancora bisogno di trascendenza che cosa vuol dire trascendenza se la politica sia esclusivamente governo dell'esistente in forme pressoché esclusivamente amministrative amministrativistiche ripartire beni già dati o risorse da reperire ma fondamentalmente da distribuire oppure se la politica possa avere uno scopo più alto dove in questa altezza o in questa altitudine c'è ovviamente sempre il doppio volto del potere cioè è grandioso e mefistofenico cioè questa altezza questa nobiltà se si vuole con cui Schmitt in una tradizione resalente intende la politica significa una parola che la politica non è solamente due punti in più e in meno di Irpef ma è qualcosa di più comprensivo e anche di più potenzialmente drammatico cioè sposta destini esistenze passioni identificazioni e spesso anche lotte fratricide ecco è l'idea di una politica più spessa mettiamola così con un anglismo piuttosto brutto ma meno equivocabile di alta che appunto non riguarda l'allocazione di risorse soltanto primariamente ma riguarda cose da maneggiare con molta cura che però non possiamo ad avviso a meno di Schmitt maneggiare quindi è quantomeno la possibilità di avere uno sguardo diverso non so se minoritario meno affermato attualmente ma su che cosa su che cosa possa intendersi per politica poi c'è un altro concetto che in teologia politica di Schmitt viene utilizzato e che oggi anzi negli anni appena trascorsi abbiamo imparato a riconoscere e a fraintendere cioè quello di eccezione e segnalo un libro che voi avete scritto che cos'è lo stato di eccezione edito da nottetempo e val la pena ripescarlo Mariano Croce teologia politica lo scrive Carlo Galli nel suo saggio è uno strumento genealogico interessante e prezioso per interpretare la modernità al di là di pretese autofondanti e autolegittimanti per intendere la politica per così dire metafisica riscoprendovi al cuore un residuo metafisico che è al contempo nichilistico cioè la volontà politica la realtà non offre appigli stabili universali per dettare ordine quindi l'ordine giuridico deve essere radicato e fondato da una con una decisione con Schmidt si vede che questa decisione è il lato meno osservato e più oscuro del diritto oltre Schmidt forse con Benjamin si può dire e questa è la domanda che il diritto oltre la patina pacificante abbia inevitabilmente un'anima irriducibilmente violenta dunque della domanda devo assumere come molto pertinente la prima parte e non la seconda perché vado direttamente sulla seconda perché in realtà se vogliamo mettere da parte Schmidt possiamo ragionarvi senz'altro se però facciamo riferimento a Schmidt per lui dietro il diritto non c'è mai violenza questo è un punto a cui tiene e che tiene fermo al netto dei moltissimi ripensamenti un altro dei degli elementi centrali del suo pensiero che non mutano è quello secondo cui il diritto non è riducibile alla forza se vogliamo da giurista anche il collega in Italia Santi Romano dopo Schmidt poi ha ripreso più tardi alcuni elementi insiste su questo elemento ma molti insistono su questo elemento sul fatto che ridurre il diritto alla forza farebbe scomparire il concetto stesso di diritto ora Schmidt non chiarisce mai davvero e il modo in cui si passa da una situazione di fatto la situazione normativa non è mai un elemento che Schmidt sviluppa con amore di dettaglio però già dagli anni dieci su questo è chiarissimo dietro il diritto non c'è la forza ma c'è dicevamo prima un'eccedenza questo senz'altro cioè metafisica qua che significa al di là della declinazione nichilista che dà Carlo Galli che non dà per esempio Nello Prede Rossi benché siano d'accordo su certi elementi ma poi sulla sulla grana di questi elementi trovino momenti di disaccordo quello che è certo è che la politica non si autofonda il che significa che le risorse messe a disposizione della politica devono venire da qualcos'altro ora qualcos'altro che può essere un residuo metafisico un residuo di una visione culturale tradizionale appunto una tradizione per Schmidt nel 22 al di là di tutti questi elementi che comunque nell'ottica di ricordiamolo un giurista conservatore di estrazione cattolica cattolico comunque rappresentano un elemento importante la tradizione rimane un elemento importante eppure neppure quella basta la politica non si fonda su di sé nel 22 e insistiamo ovviamente su quella circoscriviamo quel periodo Schmidt è convinto che serva qualcuno un leader forte in grado di dire da dove reperire le risorse quindi metafisica con la M minuscola cioè significa qualcosa che la politica di per sé non ha che sta invece nelle more di una persona particolarmente capace di indicare dove si reperiscono le risorse per compattare una società e mettere in piedi una comunità che sappia resistere agli urtiti in un'epoca difficile questa è la lettura post-metafisica se vogliamo stiamo parlando con Andrea Salvatore e Mariano Croce dell'Università Sapienza di Roma del libro che loro hanno curato per Quodlibet Teologia Politica cent'anni dopo Salvatore Stefano Pietro Paoli ricostruisce sulle tracce della formula di Hobbes Autoritas Non Veritas Facit Leggem l'analogia fra teologia e diritto nel suo capitolo si sostiene la conservazione di una qualche trascendenza prima lei l'ha anticipato cioè di una dimensione eccedente del sovrano rispetto alle sue funzioni amministrative che è incarnata nella sua soggettività e nella sua volontà noi viviamo in un'epoca dominata da un lato dall'immanenza dell'economia rispetto ai processi di vita che governa e dall'altro dall'onipotenza di un diritto che per dirla in opposizione a Schmitt basta a se stesso per far diritto e che si vuole tanto più autosufficiente quanto più la società si fa liberal-democratica c'è chi afferma che l'analogia teologica e il tenore politico non si esauriscono oggi ma vengono semplicemente ritradotti in un altro linguaggio faccio riferimento a Geminello Preterossi il quale parla di un linguaggio teologico economico e di un linguaggio teologico giuridico e in questo risiede la persistente attualità della teologia politica schmittiana che cosa ne pensa e che ne è oggi di quell'autorità che fa legge non c'è con l'emergere dell'immanenza economicistica una nuova verità a far legge allora la questione la vorrei venendo tornando un attimo al testo innanzitutto perché si chiama teologia politica un testo che di fatto si apre con la definizione della sovranità che ha fatto epoca peraltro perché il terzo capitolo appunto onomastico cioè chiamato teologia politica si apre con un'altra famosa frase schmitt era un po' diventato famoso anche per i suoi incipit piuttosto roboanti tutti i concetti della modernità politica semplifico un attimo sono concetti teologici secolarizzati che vuol dire vuol dire che noi ancora oggi secondo schmitt abbiamo ereditato dei concetti i concetti appunto della politica rappresentazione popolo decisione volontà libertà eccetera da un'epoca quella fondamentalmente premoderna in cui c'era un ordine teologicamente ancorato indiscutibile e di fatto indiscusso qual è il nostro dramma di moderni che ereditiamo quei concetti che erano diciamo adatti e erano stati forgiati sulla falsariga di quell'ordine senza avere più quell'ordine assicurato dunque la modernità si apre con un ordine inesistente e quindi da creare il dramma della modernità è che quest'ordine può essere creato esclusivamente servendosi di concetti che presuppone ma non tutt'altro ordine questo perché per venire perché per venire alla sua domanda Schmidt ci dà innanzitutto una ipotesi sul nostro disagio o sulla nostra stato di crisi no? ormai più che secolare quindi forse uno stato di crisi che non è propriamente tale o comunque è una indica una una normalità una nuova normalità e cioè quello appunto che ci troviamo senza un ordine certo alla alla ricerca è un po' disperata un po' ossessiva di quest'ordine la tecnica secondo Schmidt dà una grandissima contributo un contributo avvelenato perché perché la tecnica ordina ordina nel senso mette in ordine indubbiamente l'automazione la logistica la gli stessi big data sono in fondo avrebbe detto Schmidt per alcuni di questi lei mi lo ha detto veramente per altri non ha potuto dirlo del fatto che un ordine si dà nelle cose la questione è se che quest'ordine si dà quest'ordine che si dà nelle cose questa sorta di automatismo compositivo di bisogni necessità esigenze richieste innanzitutto regga alla lunga sia in grado di autosostenersi e in secondo luogo se esaurisca e veniamo alla questione di prima su cui chiudo se esaurisca il senso della politica se appunto la politica sia fornire cose risorse oggetti prestazioni servizi oppure sia anche fornire un senso Schmidt credeva e non solo lui intendi altri apparteneva anche a una generazione che in molti casi ha creduto questo e non è solo la sua che la politica dovesse osperabilmente potesse contribuire a dare un senso all'esistenza richiamo ci tengo a specificare questo senso all'esistenza si può fare lo si può dare in molti sensi appunto cioè lo si può dare in forme drammatiche tragiche omicidiarie anche come anche costruttive e volte a un miglioramento della propria non fosse altro della propria esistenza oltre che di quell'altruna quindi una lo scontro che richiama anche nella sua domanda richiama la sua domanda è tra politica come erogazione di servizi dove si apre il problema a questi servizi fino a quando e quanto potranno essere assicurati e dall'altra parte una concezione molto diversa dalla politica dalla politica innanzitutto dona senso dona senso all'esistenza ovviamente nei limiti di quello che è possibile fare di quello che uno ritiene che sia opportuno perché insomma il novecento è anche la storia di esistenze politicamente come dire forgiate che sono andate però in in direzioni che forse non vorremmo tornare a vedere Mariano Croce prima in apertura abbiamo parlato di personalismo di decisionismo c'è un effetto collaterale nell'impianto teologico politico che lo stesso Schmidt segnala in chiave autocritica nella seconda edizione del 1934 un eccessivo soggettivismo perfino un personalismo e un eccessivo decisionismo impediscono di dar conto dei movimenti storico-politici collettivi eppure come scrive ancora Carlo Galli e come ha scritto anche Geminello Preterossi nell'opera successiva in cui affianca un pensiero istituzionalista se Schmidt supera in qualche modo l'eccessivo decisionismo è anche vero che rimane aderente a una concezione negativa della politica in che cosa consiste questa persistente negatività dentro e oltre la decisione sovrana e in che cosa concretamente la constatiamo dunque rimane una concezione negativa però vorrei precisare in che senso secondo noi rimane anche un chiaro elemento decisionistico che va spiegato che di nuovo va spiegato e ne va individuato il senso brevissima premessa nel tardo 33 Schmidt licenzia la seconda edizione la seconda la premessa alla seconda edizione di teologia politica e in questa premessa di due pagine sostanzialmente manifesta un cambio di rotta e sostiene che l'impianto l'impianto di teologia politica ha subito importanti modificazioni cioè ha introdotto nuovi elementi che di fatto il pensiero istituzionalista ora non ci fermiamo sui dettagli di questo elemento di questa di questo innesto per noi molto importante però come si può sintetizzare senza entrare nelle questioni più esegetiche se Schmidt nel 22 sosteneva che la politica potesse dovesse trovare fondamento nella decisione di qualcuno che nei momenti di crisi sapesse indicare che cos'è il diritto sapesse imprimere un ordine sapesse compattare una comunità smette di credervi smette di credere in questa ideologia semplice smette di idea quantomeno molto semplice e prende a credere qualcosa di un po' diverso ossia che una comunità politica trova fondamento e saldezza in un residuo valoriale e di principi molto molto saldo molto storicamente attestato quello che chiama istituzioni le quali che fanno forma in soggetti all'interno delle loro comunità Schmidt pensa alle grandi istituzioni le chiese l'esercito la burocrazia formano gli individui sono istituzioni che tra loro riescono a contemporarsi a convivere formano gli individui nei diversi aspetti della vita di questi individui in modo tale da poter come diceva Andrea Salvatore dar loro un senso imprimere un ordine alla loro esistenza ecco che cos'è la comunità politica qualcosa che trova le risorse all'interno di un contesto istituzionale puntellato da grandi organizzazioni e rispetto a queste la politica deve assicurare stabilità la costituzione deve proteggere la vita e la riproduzione di queste grandi istituzioni in questo si concreta il cambio di idea di Schmidt dove sta la negatività è purtroppo in qualcosa che è più detestabile persino che il personalismo del decisionismo che il personalismo del 22 nel fatto che per Schmidt il vero nemico e lo era anche prima ma ora in modo ancora più centrato il vero nemico è il pluralismo cioè la politica deve eliminare tutto ciò che non si rivela compatibile con questo nucleo valoriale di fondo quindi la negatività sta proprio in una proattività del politico che non ha più da decidere ma da fare in modo che non emergano alternative che possano mettere in pericolo la vita di quelle istituzioni poche istituzioni che assieme garantiscono la stabilità della comunità politica Andrea Salvatore abbiamo ancora un paio di minuti voglio che anche lei si esprima su questo istituzionalismo schmittiano voi anche in altre occasioni avete sostenuto che il decisionismo su cui si incardina teologia politica è solo una componente circoscritta del pensiero schmittiano e è innegabile che dare eccessivo peso a questa dimensione del pensiero schmittiano può far cadere in errori interpretativi secondo cui il potere è sempre sul punto di ribaltare l'ordine costituito e quindi una chiave interpretativa che può finire perfino per dare adito adito a un certo complottismo qual è il vantaggio della vostra interpretazione istituzionalistica di schmitt diciamo sia per schmitt sia per più ampia per una più ampia considerazione della politica e forse non solo della politica della socialità in generale è semplicemente che questa visione è più realistica e anche più credibile perché si si farebbe fatica a almeno io farei fatica a nominare un solo atto decisionistico una sola decisione nella storia recente in cui quella decisione ha creato un ordine quella singola decisione è riuscita a creare un ordine e figurarsi se poi presa appunto personalisticamente cioè da una persona la prima ovvia considerazione è ma perché quella decisione è stata seguita se anche si riesce a trovare un esempio del genere quindi bisogna un po' interrogarsi sulle come dire sulle risultanze sociologiche su delle spiegazioni che possano dar conto delle ipotesi di spiegazione che possono dar conto perché viene seguita una persona piuttosto che un altro in fondo quando si fa un sondaggio pre o post elettorale dopo i dati si cerca di analizzare anche in questo senso vogliamo darci a questo esempio perché appunto è più realistico anche perché è più quotidiano come 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 esperienza perché fondamentalmente la politica è si scioglie si si esaurisce in fondo in atti diciamo gli scienziari sociali generalmente le chiamano interazioni cioè in modalità di fare cose insieme in maniera molto poco altisonante e molto concreta cioè di pratiche ripetute che quotidianamente mettiamo decidiamo di mettere in circolo e di appunto di replicare la politica è fatta di modi di fare le cose di fare certe cose in un certo modo che concorrono nello stesso nella nostra stessa adesione a svolgere quelle azioni in quel modo concorrono insieme ad altre ipotesi alternative a formare come vogliamo chiamarlo il il bouquet di possibilità all'interno del quale poi la politica ovviamente l'ha detto Mariano Croce questo è innegabile figurarsi per Schmitt ma pensiamo che lo sia alla fine è selezione ovviamente ci sono molti modi diversi di selezionare e ci sono molte logiche diverse tramite le quali selezionare però appunto e concludo sulla sua sollecitazione la quell'ipotesi che si chiama istituzionalistica e lasciamo stare perché ha questa etichetta in parte fuorviante non richiama affatto istituzioni statali ma richiama modi di istituire la nostra vita quotidiana attraverso pratiche che decidiamo più o meno liberamente lo spazio di libertà non è sempre assoluto ovviamente di far nostre di modificare di presentare in altre forme la storia come dire le dinamiche di queste pratiche sono quelle che fanno la politica abbiamo terminato il nostro tempo abbiamo parlato con Andrea Salvatore Mariano Croce del libro che hanno curato per l'editore Quadlibet Teologia politica cent'anni dopo grazie Andrea Salvatore grazie a voi grazie a lei e grazie Mariano Croce grazie a lei grazie a chi ascolta un saluto a chi ci ha ascoltato e alla prossima grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri